sì buongiorno mister intanto ci troviamo di fronte a un esordio in panchina si dice che abbia un carattere abbastanza fumantino e quindi vogliamo capire come come spronerà i ragazzi in campo nella prossima partita il fumantino me lo dicevano quando giochicchiavo un po a calcio in serie c perché ero uno che cercava sempre di vibrare quindi mi dicevano sempre sei fumantino da calciatore sicuramente non posso nascondere di essere un po emozionato però sono anche molto concentrato per la gara e quindi più ci avviciniamo la partita e più questa emozione va in si trasforma in concentrazione spronerò la squadra li aiuterò con la mia voce come faccio sempre da secondo per cercare di sofferire alla mancanza del mister sì parliamo di moduli con che modulo scende in campo questo questo elenco contro la provercelli squadra tosta però comunque battibile sarà 4 2 3 1 il modulo il mister in settimana abbiamo preparato l'allenamento cercando di giocare o a 3 o a 4 dietro sicuramente ci siamo allenati l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto anche bene però aspettiamo l'allenamento di oggi per decidere se giocare a 3 o a 4 sappiamo che a 4 riusciamo a farlo anche bene però ripeto il mister aspetta la seduta di oggi di stamattina per decidere se se scende nel campo con un 3 4 3 o con un 4 2 3 1 quello che sia Matteo Bonacina prego mister buongiorno mi avete dato l'idea a busto di poter cogliere dei buoni frutti giocando a 3 e mezzo al campo nel senso che comunque magari una fase in cui anche uno come marotta un po' di deficit tra virgolette a livello fisico un po' stanco con l'inserimento di l'ora poi molere insomma non è tanto questo i giocatori mi avete dato l'idea di poter essere un po' più propositivi anche sulle fasci far ricevere palloni un po' più puliti ai due esterni magari in corsa e non già già chiusi dagli esterni avversari quindi anche questo favorire un gioco più più di spinta tra virgolette più tambureggiante insomma può essere una soluzione anche questa ripeto come ho detto poco fa questa è una buona soluzione sicuramente dare un po' più di densità un po' più di uomini in mezzo al campo giocando a 3 non è una brutta soluzione ti ripeto il mister in settimana ha provato per giocare a 4 dietro riproporre un attimino anche quell'assetto che che si è visto il secondo tempo contro la propria d'altro canto ti devo dire anche che noi non abbiamo mai avuto tutta la rosa intera per poter provare assetti diversi anche a 4 cioè non c'è mai capitato durante l'arco dell'anno correggetemi se sbaglio di avere tutti insieme anche il reparto difensivo per provare una difesa a 4 per poi giocare in 3 da 3 a mezzo al campo per cui sicuramente ti dico di sì nel senso che è una cosa che in mente il mister ce l'ha però aspettiamo il momento opportuno per poterlo mettere in atto ecco e vedendo la mercoledì la Provercelli mi ha dato l'idea di essere una squadra che magari anzi sicuramente con più qualità nel reparto offensivo insomma come e Rolando non si concedono a tanti al di là che il fatto che siano subentrati è una squadra che però bene o male ha quei principi di gioco che hanno caratterizzato magari Provercelli e Prosesto ripeto con più qualità e quindi meno difensiva però comunque potresti incontrare sostanzialmente delle difficoltà un po' già note insomma se uomini a far densità davanti all'area via via dicendo al di là del fatto che mancherà Masi che insomma è un'assenza pesante per noi. Dico noi sappiamo che questa sarà una partita molto difficile la Provercelli è una squadra ben allenata è una squadra che esprime un buon calcio una squadra che propone tantissimo che viene a prenderti alto ma d'altro canto anche la Provercelli sa di venire a Lecco a giocare con questo Lecco non è non è non è semplice. Noi abbiamo preparato la partita per cercare di alzare i ritmi quanto loro se non più di loro cercare di rimanere lucidi più possibile per proporre quello che è il nostro gioco mettendo in atto quelli che sono i nostri principi di gioco che andiamo a dare tutti i giorni. È chiaro che per poter far nostra questa partita con una squadra molto aggressiva molto che tiene dei ritmi alti e che ti viene a prendere sempre alta devi cercare di vincere tutti i duelli o meglio quasi tutti i duelli in fase di possesso in fase di non possesso però come ripeto bisogna mantenere la lucidità per cercare di imporre quello che è il nostro gioco. Davide Tagliavue? Sì solo un'altra domanda veloce lei sarà in panchina che per le due partite successive quindi anche contro prima l'Olbia a Olbia peraltro e poi contro contro la Lucchese. Sono tre partite in cui lei ha chiamato a guidare la squadra in un momento forse uno snodo importante per la stagione non so se sei d'accordo. Io sono d'accordissimo ne siamo tutti consapevoli nel senso che noi dobbiamo cercare di ogni partita di vincere. È chiaro che noi adesso abbiamo fatto ricorso per cercare di limitare le giornate di squalifica del mister. Ci stiamo provando speriamo che questo avvenga in positivo però se questo non dovesse succedere il mister è sempre presente nel senso siamo sempre in contatto per cui la barca va avanti lo stesso nel migliore dei modi. Assolutamente non ci sono problemi sotto questo punto di vista. È chiaro che sono tre partite importanti come due partite importanti come hai ben detto però noi siamo sicuri che solo attraverso quello che è il lavoro giornaliero possiamo riuscire a far bene a fare prestazioni di livello e a fare soprattutto il risultato che alla fine dei giochi è quello che più conta. Ci sono altre domande? Ma sì una cosa rapida sullo stato degli infortunati insomma avete Merli Sala Malgrati sono acciaccati i botti alle costole, Kautz uscito tenendosi la gamba e poi Purra sente da un po'. Chiaro, non ci sarà a Gali però le altre situazioni come sono evolute nel corso di questi giorni? In settimana abbiamo cercato di gestire un po' la situazione, siamo riusciti a recuperare Ivan, Merli Sala che sarà disponibile, lo stesso Seliac, lo stesso Kautz sarà della partita nel senso sarà a disposizione per cui bene o male questa settimana siamo riusciti a gestire un po' di infortunati.